allora ragazzi sapete cosa mi piace a me quando vede video io sono iscritto a tanti canali e però ci sono quei canali che mi attirano proprio mi affascinano sono quelli che hanno quella dialettica bella scorrevole tranquilla certo magari a volte si esagera con qualche parola in più qualche parola pesante però se parliamo di dialettica ce ne sono alcuni che c'è loro ma a livelli che io mi posso solo sognare poi vabbè ognuno ha i suoi punti forti ma di certo quello non è il mio punto forte e adesso ne parliamo adesso ne parliamo perché c'è questo ragazzo gianca questo juventino qua un grande juventino ragazzi ecco io ripeto sempre quando parlo di juve sembra come se io odiassi tutto della juve no non è così che funziona e a me danno fastidio quei personaggi andatevi a vedere il video del romagnolo e vi spiega proprio la faccia me l'ho detto un sacco di volte anche io la faccia che hanno quella faccia odiosa odiosa che quell'odio poi riescono a trasmettere ai loro utenti ed è vero ed è vero magari il romagnolo ve lo spiega meglio di come io sappia spiegare una cosa però ecco perché gli ho detto se volete andatevi a vedere il video suo perché ve lo spiega davvero bene e niente c'è questo giacca invece che davvero lo sta massacrando al leader supremo leader supremo sta ogni giorno viene massacrato da questo giacca che davvero bravo 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 io fossi in voi lo andrei a seguire perché è uno che c'è molti molti lo insultano sono quelli mandati sapete peter panna ha mandato sotto i nostri video molte volte dei loro utenti che poi come delle pecole vengono e insultano e sono davvero delle pecole e allora basta che gli dici fai questo e loro lo fanno vai a fare questa rapina e loro la fanno perché gliel'ha detto lui allora ragazzi adesso lo sentiamo perché l'ha smontato l'ha smontato l'ha smontato iscrizione al canale di risalente basta continuiamo a ridere ragazzi benvenuti anche ai 25 di ieri benvenuti sul canale e spero anche lo dico anche a voi spero di riuscire a farvi fare tante risate anche a voi perché noi ragazzi in questo canale ridiamo dei portatori di odio ridiamo di loro ridiamo dobbiamo ridere iscrivetevi al canale mettete il like al video e cominciamo cominciamo sentite ragazzi no perché praticamente gli scrivono che lui è uno che non sembra neanche gli venti insomma gli scrivono molti commenti diciamo dove lo insultano dove lo insultano ma non perché solo perché non si unisce a quella schiera cioè lo diventino oggi medio ebbete vuole sentir parlare male dell'inter lui non è il tipo non è il tipo lui vuole parlare della sua aiuta quindi si si vede attaccato da questi ebbeti come in un qualsiasi canale ci deve essere il fenomeno di turno e il fenomeno di turno gli scrive ma più che non hai argomenti e sei intellettualmente modesto ti appoggi solo all'insulto capite per ogni ventino ebbene sei non sei onesto intellettualmente se non parli male dell'inter capito capito ragazzi capito che questi stanno fuori stanno fuori stanno proprio fuori dalla realtà per esprimere il tuo pensiero parliamo di qualcuno che sostiene un imbecille che fa dell'improverio dell'insulto il suo cavallo di battaglia e siccome io non sono uno che mi faccio fare la morale da un imbecille che appoggia un altro imbecille no ragazzi quando io dico la dialettica è importante è importante è importante io per esempio è vero non sono il tipo che cioè sì se devo copiare un intero discorso facendolo io ventino scemo mi copio il discorso mi scrivo tutto e poi lo rileggo ma i video non è che me li preparo prima decido l'argomento schiaccio play e parlo invece ragazzi guardate che anche questa è arte quella che è quella di questo junk è davvero c'è ha una dialettica davvero micidiale ti dico hai ragione io e tante persone che comunque frequento il mio canale non possiamo mai competere con degli intellettuali raffinati come voi figli di uno dei più grandi luminari professorori intellettuali d'italia e di minchiologia a livello mondiale no smonta il leader supremo quello di agropoli è un professore di minchiologia un grande luminare professore di minchiologia magari sai in realtà è vero devo un pochettino ampliare le mie vedute culturali magari vado a prendere qualche suo articolo che parla proprio della minchiologia applicata a livello mondiale così magari voglio dire magari per vado anche da lui a lezione ma in quel suo studione con quella bella poltrona brandizzata playstation così magari mi da qualche insegnamento di vita bravo gianca bravo così anche tu magari riceverai nel tuo studio la procura federale perché poi vedete no quando versicchio ormai versicchio può essere considerato una leggenda anche se ancora esiste però può essere già considerato una leggenda perché ragazzi ha fatto scuola ha fatto scuola parecchi e oggi tutti vogliono somigliare a lui c'è quello col pizzetto che si è fatto il pizzetto che si vuole cambiare la macchina perché ce l'ha già da due anni questa qua vuole l'ultimo modello che si è fatto anche lui il capello da una parte e dall'altra punto e c'è quell'altro il damico che si è fatto il capello con la riga in mezzo pure tutti vogliono somigliare a lui gianca no anzi a proposito minchiologi mondiali ditegli al fenomeno di turno che quando va a vedere qualche convention che poi anche lì mi voglio fare la domanda come è possibile fare entrare un personaggio del genere almeno che possa imparare quali sono i nomi dei politici perché è solorevole frato gli anni che io voglio dire io non amo determinati personaggi sarebbe diventato per il professorone vinciologo a livello mondiale frato gli ardi no vabbè ragazzi perché poi vogliono andare al di là del calcio il calcio alla fine è una materia facile anche perché poi nel calcio e poi avere un tuo parere e quindi ognuno può dire quello che vuole ma i nomi no i nomi no frato gli anni perché lui poi fa anche i video politici è il leader supremo frato gli anni che diventa frato gli ardi cioè non sa neanche va a vedersi una convention di uno che non sa neanche come si chiama ragazzi parliamo davvero di un livello bassissimo bassissimo però come vedete arrivano dei grandi personaggi giuventino ragazzi giuventino ma io lo dico solamente perché a me non interessa poi se uno sia giuventino interista milanista naziale romanista non me ne frega niente uno è bravo è bravo è bravo è bravo e io non non mi vergogno a dire che sono iscritto a tanti canali milanisti e diventini quando uno è bravo merita tutta la mia attenzione ciao ragazzi ci vediamo per il tg